Il fenomeno del terrorismo politico che scosse l'Italia dalla fine degli anni Sessanta alla prima metà degli anni Ottanta è al centro della Notte della Repubblica, un ciclo di sei appuntamenti organizzati a Roma da Unitelma Sapienza per raccontare la storia degli anni di Piombo. Durante gli incontri moderati da Roberto Scerrone verranno proiettate alcune clip tratte dall'inchiesta omonima curata da Sergio Zavoli sulla RAI. Il rettore è Bruno Botta. Parliamo dei momenti bui della nostra Repubblica per cui farlo poi qui all'Università Unitelma Sapienza ha un ruolo, è importante perché le università devono potersi aprire a tutti quanti. Noi ci apriamo ai giovani ma essenzialmente raggiungiamo tutti, almeno è questo lo scopo di una telematica. La storica e divulgatrice Michela Ponzani ha ricordato come il primo incontro cada proprio nel giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. È molto importante far conoscere a ragazzi che hanno vent'anni, non erano nemmeno nati quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, quel periodo storico. Non solo perché i protagonisti di quella stagione sono ancora in mezzo a noi, ma perché è proprio importante capire qual è stata la storia di questo paese, di questa democrazia che ha saputo resistere, ha saputo reggere a tentativi colpisti, a trame autoritarie, a tentativi di colpi di mano. L'ospite del primo incontro è stato Walter Veltroni che ha parlato del delitto Pasolini. Era sempre anche graffiante, anche spiazzante e certe volte non condivisibile, però c'era una grandezza intanto di formazione culturale, di linguaggio, di sensibilità, di attraversamento del dolore nella sua vita, anche del buio nella sua vita, che rendeva tutto quello che diceva di un peso specifico incomparabile. I prossimi appuntamenti nella sala conferenze di Unite Almasapienza e in streaming sul canale YouTube dell'Ateneo sono in programma per il 10 giugno, il 26 settembre, il 15 ottobre, il 13 novembre e l'11 dicembre. Si parlerà di mafia, del delitto Moro, del 68, della strage di Bologna e della violenza politica negli anni 70.